Muso da furbetto, occhioni neri e orecchie all'insù. Buffo e tenerissimo. L'animale nella foto è un raro piccadili, un mammifero che vive solitario tra i 2800 e i 4000 metri di altitudine sulle montagne della Cina nord-occidentale. Il piccadili è a rischio estinzione a causa dell'inquinamento. Da anni, 24 per la precisione, non se ne vedeva uno. La foto è stata scattata dallo scienziato cinese Li Weidong, l'uomo che nel lontano 1983 lo avvistò per la prima volta e che da quel giorno ha cominciato a dedicargli tutto il suo lavoro.